E in ultimo voglio chiamare Gianni e Rita di Procciato. Buona presentazione. Io sono Gianni, sono Gianni, sto aspettando Rita. Allora, non posso sempre parlare del blog dei sottinesi nel mondo. E ho mai pensato che comunque, chi non lo sapeva, c'è questo sito che in realtà si chiama blog. Il blog è un sito su internet ed è dedicato a tutti i sottinesi nel mondo. Quindi da qualsiasi parte del mondo, basta un clip sul computer per poter vedere diversi eventi sottinesi. Per esempio, la serata che è stata fatta giorno 10 in piazza Giovanni Verga è già stata ripresa. E tra qualche giorno la posteggerò prima su YouTube, perché YouTube è un posteggio per video. E poi da YouTube, tramite un codice, la porterò sul sito dei sottinesi nel mondo. E quindi, da qualsiasi parte ci si trova nel mondo, basta avere un computer che si può vedere questo evento. Ho registrato anche l'asciuta di Santa Sofia, sto registrando quella di questa sera e quindi cerco di far conoscere a tutti i sottinesi nel mondo quello che succede a Sottino. L'altra sera io ho detto una piccola poesia, se mi permette ne vorrei dire un'altra stasera. Questa, devo fare una premessa, quando eravamo ragazzi tutti, giocavamo con una pacca, una pallina che si chiamavano Bellacucci. Bellacucci che c'era tutto un procedimento, si mangiavano poi si tiravano cose pure. Quando io sono arrivato in Lombantia, ho trovato che tantissimi viali sono alberati con questo tipo di albero, che in italiano si chiama Pagolaro. E quindi mi è venuta spontanea a scrivere qualche cosa su questa stranezza. Quindi questa poesia fa in questo modo, non è in rima, è un po' così, è la buona. Allora, a Milano ci sono certe viate, capi milanesi servono solo per fare ombra, ma mia che è Caluscio, ma io quando mangio a ventuno, quando armate di tante specone, me ne andiamo a fare a guerra, a fine, a russi e alla parire. Ora, quando mi sono arrivato a Milano, me ne mangio una ventina e me ne andiamo a fare a me, a me ne andiamo a fare a me, a me ne andiamo a fare a me, a me ne andiamo a fare a me. E Andiamo a fare, a me, a fare a me, 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 a me. E facciamo un parola, quello che facciamo, quello che facciamo, quello che facciamo. Vi ringrazio di ora la charata e però dobbiamo ringraziare, dobbiamo ringraziare il Gino Capalà alla Piazza Armonica. Grazie 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 Come ti faccio capire chi ti va bene, se tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come ti vengono in capo e ti hai lo più. Come ti parla americano. 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 E io, che sogno bella, mi voglio marita. Sì, marita, un rosa, sarita e pippinetta. Vittia, che sogno bella, marita e non c'è me. Tanti picciotti belli, passano di stasciata. Ma non c'è una guardata alla mia casa. Certo, sto desiderio di succe la mia vita. Mi voglio fare zitta, mi voglio marita.